un benvenuto tutti da meteo grovano giornata un po instabile quella di oggi con qualche debole pioggia con qualche temporale sparso non tanto colpite la nostra zona ma le zone ecco vi mostro le temperature del giorno 20 di settembre e andiamo con le minime 10 e 7 a volate guardate come sono diminuite 11 e 7 cesate 9 4 addirittura sotto i 10 gradi ceriano laghetto le temperature massime 23 gradi a volate 21 e 9 a cesate 21 e 5 dicevo di qualche temporale vedete proprio cinisello balsamo questa sera c'è stato il temporale noi siamo soltanto c'è praticamente il temporale ci ha un po sfiorato andiamo a vedere le immagini dei satellite lo vedete ecco durante il pomeriggio le nuvole aumentano aumentano in stabilità il contrasto termico ecco si formano queste nuvole con queste piogge temporali un po sparsi andiamo a vedere le temperature e le precipitazioni appunto da questo modello rilevate il 20 di settembre vedete ben fresca tutta l'italia tranne la sicilia e la calabria e fresca anche le alpi il radar vedete sulla nostra zona abbastanza precipitazione andiamo a controllare il modello di reading ecco vedete c'è sempre questo fondo ancora presente sulle nostre regioni questo fondo domani pian pianino si riduce perché ci sarà una rimonta dell'alta pressione in quanto questa goccia fredda si isolerà sembrerebbe sulla spagna quindi il tempo va a migliorare anche se rimarrà per domani un po di instabilità andiamo a vedere allora la carta al suolo prevista per domani ecco l'alta pressione che comincia a stendersi anche verso le nostre regioni le preoccupazioni per ora rimangono a latitudini un po più alte andiamo a vedere la previsione allora domani un cielo ancora un po instabile al mattino poi migliora durante la giornata più 16 la temperatura minima più 22 la massima lo stesso sarà per mercoledì 15 più 22 e invece giovedì una giornata un po migliore più 12 più 23 bene ho terminato vi ringrazio vi do l'accontamento al bollettino di domani vi auguro un sereno martedì 21 di settembre meteo groane una ripeterciato